Mi chiamo Marco Vallicella, sono in Arrana dal 1993. All'inizio mi occupavo di batonologia delle materie prime, pertanto analisi in laboratorio. Successivamente mi ho stato dato la possibilità di conoscere le materie prime anche dal punto di vista organolettico per seguirle poi in tutta la loro filiera. Una cosa che ricordo con piacere è stata quando siamo partiti con l'esperienza america. I momenti lì sono momenti che non si possono dimenticare. Poter portare tutta quell'esperienza nel controllare la materia prima, il colore, l'organolettico, la qualità, la filiera. L'ultima che ho tirato dentro nel mio spot a livello qualitativo è la mia collega Laura. Dai vieni Laura, è una nuova new entry che mi aiuta, anzi diciamo sapete quando c'è lei fa tutto lei apparatico e pertanto noi siamo Giovanni Rana.